Dopo tre mesi Civitella Casanova sconfigge definitivamente il Covid-19, il paese pedemontano della provincia di Pescara situato nell'area vestina, 1700 abitanti, 44 positivi e purtroppo due vittime, ma per fortuna oggi 20 giugno il paese di Civitella Casanova è divenuto finalmente Covid-free, tutta la soddisfazione del sindaco Marco D'Andrea. Dal 12 marzo aspettavamo fortemente questo giorno, finalmente è arrivato, 44 contagi e purtroppo due vittime, Rita e Lucia che noi ricorderemo sempre. Una percentuale molto alta che è abbracciata da tutte le fasce d'età, partendo da un bimbo di 10 anni fino ad arrivare a una signora di 93 che fortunatamente è guarita anche lei, quindi abbiamo toccato con mano a larga scala questo virus. Ci tenevo anche a ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questa fase, cioè dai miei amministratori, i volontari, dalla Pivec, la protezione civile di Farindola che ci ha dato una grossa mano, ma anche tutte le persone che si sono in qualche modo sentite di partecipare, di cercare di alleviare questo dolore. La forza e la determinazione di ripartire anche gli operatori economici, tanti ristoranti che qui nella zona sono piene, piccole attività che in qualche modo si sono rimesse in azione, però con i limiti appunto delle ordinanze da rispettare. Chiaramente bisogna stare anche attenti perché spero che finisca, ma questo Covid ci ha insegnato che questa battaglia l'abbiamo vinta, ma la guerra credo sia ancora lunga.